I messaggi sono due. Il primo è che bisogna fare in tutti i modi e mettere tutti gli sforzi possibili per cercare di concludere bene il ciclo di programmazione dei fondi 2007-2013 riuscendo a spendere e a spendere bene. Il secondo messaggio riguarda il nuovo ciclo che comincerà nel 2014 e per questo noi dobbiamo imparare dagli errori del passato e dobbiamo riformare l'architettura, il governo di questi fondi in modo da ottenere il massimo di efficienza e di efficacia. Se noi non riusciamo a far funzionare bene la macchina pubblica evidentemente non siamo in condizione di affrontare, di rimuovere quegli ostacoli economici e sociali che uniscono il Paese e sui quali la nostra Costituzione ci chiamo a intervenire.